E' stato colpito alla spalla con il manico di un martello da carpentiere in strada postumia. Le pattuglie della squadra volanti arrivate sul posto hanno potuto appurare che l'aggressione era scaturita in seguito ad una discussione derivata dalle pretese retributive per prestazioni lavorative che la persona offesa, un cittadino egiziano 29enne, rivendicava nei confronti di un italiano di 68 anni che ha reagito alle richieste di denaro picchiandolo dopo un'accesa discussione verbale. L'aggressore, già noto per essere stato responsabile di altri alterchi violenti, è stato denunciato per il reato di lesioni personali aggravate. Nei suoi confronti è scattata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Vicenza per due anni.